con Barbara Larocca, parlavamo di due importanti appuntamenti, uno è il primo corso per allenatori, dovremmo avere anche una locandina. Sì, è il primo corso nazionale, abbiamo avuto l'ok appunto dal nazionale di istruttori mini basket e il primo corso di allenatori di pallacanestro. Abbiamo un saggio, un grandissimo saggio che sicuramente nonostante la sua giovane età la continua a dire la sua, gira ancora il mondo insegnando ed è il professor Maurizio Mondoni che gira attualmente ancora il mondo insegnando, insegna di insegnare ai ragazzi. Perché poi è importante la formazione, quindi per giovani anche allenatori. E Paolo Porra, giocatore amatorio e over 40 BK a Prima Valle, parteciperà a questo corso o no? Mi devo per forza dire di sì, ovviamente sì, di fronte a Maurizio Mondoni sarà un piacere essere parte del... Una domanda, da quanto gioca basket? Ho iniziato a 7 anni, quindi sono più di 50 anni. Un giovane che ci sta ascoltando ora e che sta vedendo la televisione, perché dovrebbe scegliere il basket e non il calcio? Perché il basket è molto più bello, ovviamente scherzo. Tutti gli sport sono belli, gli sport di squadra hanno un gran pregio che è quello di creare un gruppo, creare rapporti, creare amicizia, stare insieme ed è una cosa che va vissuta a livello sportivo, in qualsiasi sport ovviamente. E' proprio, insomma, sono i valori in cui si fonda Sporting Tour e ICS, perché ovviamente è lo stare insieme, condivisione, sport, salute, benessere. Quindi...